Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. I rumors, le voci erano state spente dalle dichiarazioni di Marina Berlusconi. Possiamo escludere che a questo punto lei ragioni rispetto al fatto di scendere in campo, per usare un'espressione del padre? Immagino quello che lei mi abbia chiesto perché non l'ho sentita. Marina Berlusconi ha sempre rifiutato quel compito di presiedere Forza Italia che le era stata offerta. A mio giudizio sarebbe stata un'ottima conducator di Forza Italia, ma ha detto di no. E questo smentisce questa favoletta del partito personale che ho sentito ripetere, perché quando un partito ha oltre 20 milioni di consensi ha la faccia di considerarlo personale. Una famiglia di 20 milioni di persone non l'ho mai vista. Berlusconi ha coinvolto attorno a sé degli uomini, delle donne, di cultura, di diverso orientamento politico. Ricordiamo agli inizi quando coinvolse Casini e Mastella, che erano del CICIDI-CDU. Poi quando coinvolse Vertone, quando coinvolse gli intellettuali. Voglio un partito che fosse ampio, certo, riteneva che la guida di quel partito aspettasse a lui e non ad altri. D'altra parte era stato lui a fondarlo. Però democratizzò il partito facendo sì che i responsabili a livello provinciale e a livello regionale fossero eletti dalla base degli iscritti. Non era lui a sceglierli. Era la base degli iscritti a nominare i responsabili dei partiti e a guidarli nell'azione locale. Nell'azione nazionale nominò un consiglio di presidenza e le discussioni in quel consiglio di presidenza, io le ricordo molto bene perché ne facevo parte. Discutevamoci, confrontevamoci. Erano vivaci, mi vuole dire questo. Voi dovete dirmi tutto quello che pensate. Come? No, dico, erano discussioni vivaci. Era una vera conduzione. Erano discussioni vivaci. Berlusconi ci incitava a questo. Diceva, voi dovete dirmi tutto quello che pensate, poi sarò io a tirare la sintesi. Avrò io questa responsabilità. Ma non abbiate timore di dire a me se la pensate in maniera opposta alla mia. Perché è un partito democratico, lo si conduce confrontando pareri anche diversi, anche opposti tra di loro e poi spetta al capo di scegliere la via preferita e tutti si adeguano a questa via. Cosa che non ti convince, Salvatore? Un po' mi sembra di sentire mia figlia quando descrive la nostra relazione.